So benissimo che la modalità non si è finita su Fortnite, ma in realtà il suo guanto dell'infinito è arrivato qua su Minecraft È stato teletrasportato da Fortnite Esattamente E questo oggi non lo potremo utilizzare Sono un po' preoccupato perché io non so bene tutto quello che può fare, a quanto pare è fortissimo, incredibile Ah, Stef, io da quello che so è difficilissimo da utilizzare, cioè non so neanche se tu ne sarai in grado Secondo me no Secondo me no, infatti tu me lo stai lasciando a me perché vuoi che faccia io la figuraccia? Esatto Perché questa volta sai che anche tu la faresti se tu lo provassi Esatto Allora, allora, Marble Marble tecnicamente dovrebbe spiegarci tutto Ma secondo me c'è tanto, Stef No, io ti voglio fare una domanda Ok Se Marble sapesse realmente come funziona il guanto dell'infinito non se lo terrebbe per lui? Guarda come si è girato appena l'ho detto Appena l'ho accusato, vabbè per ora parliamoci Allora, ciao viaggiatore, Stef il Magnifico Ciao Marble, tutto bene? Benvenuti nel luogo di una straordinaria scoperta Abbiamo trovato un antico artefatto Andate avanti e prendete il guanto dell'infinito Però non usatelo ancora, è molto pericoloso Stef, non sai neanche che il guanto di Thanos c'è Abbiamo fatto una scoperta Questo qua non ha capito nulla, Stef Non ha capito niente Vabbè, allora, per ora Lo voglio anch'io Oh, figo è figo, eh Forca misura, sei figo, Fere È una figata Cioè, guardami qua, è bellissimo Ti do un ceffone con questo Guarda che ti risvegli dopo domani, eh Voli dall'altra parte del mondo di Minecraft, Stef Sì, bellissimo Allora, vabbè, per ora parliamo con lui, ha detto di non usarlo Io sono d'accordo, sembra pericoloso Quindi, abbiamo capito Bene, ora che avete il vostro guanto dell'infinito Ci sono altre modalità Che chiameremo modalità Uno, due, tre Ok Modalità uno Per attivare questa modalità dovete cliccare il pulsante destro del mouse Non tenetelo, premutelo Cliccatele e basta Premuto o non premutelo, Stef? Premuto Hai detto non teletelo, premutelo Vabbè, modalità due Sono già in tilt Per attivare questa modalità dovete tenere premuto il tasto destro del mouse Ancora una volta Non tenere premuto Inoltre, per essere da una pietra all'altra Premete il tasto C E tutto Siete pronti a provare il guanto dell'infinito Sì? Nooo Non ho capito nulla La prima pietra è la soulstone Passate a questa modalità Una volta attivata potete usare la modalità uno Per prendere un mob E la modalità tre per sostituire quel mob La modalità due Non esiste su questa impostazione Allora, sto capendo in pratica il guanto alle gemme Noi con C Prova a premere C E infatti passiamo da una gem all'altra C'ha detto di provare la? La soulstone Quindi soul gem Ok E diceva che col tasto destro Modalità uno era tasto destro Aspetta che mi devo segnare un po' di cose Vediamo, vediamo Allora, modalità uno Tasto destro Quindi prova a premere solo tasto destro What? Hai preso un mob, giusto? Tecnicamente lo prendi con tasto destro Ok Lo anniento più che prenderlo E la modalità tre lo sostituisci Quindi shift destro Esatto Perché dice che la modalità due Non esiste con questo tipo di gemma Ok È andata Allo stesso modo Ok Vabbè Abbiamo per ora un potere Cos'è molto particolare Che vedi qualcuno che non ti piace E scompare Vabbè Bellissimo Ci sta, ci sta, ci sta La prossima La prossima La reality stone Passate a questa modalità Una volta attivata potete usare la modalità Uno per rompere un blocco Ok Due per cambiare la game mode E infine Tre Per rompere una grande quantità di blocchi Vi preghiamo di spostarvi molto lontano Quando la utilizzate Ok Reality stone Ok Quindi spostiamoci un pochettino Dai ti voglio vedere Ok Allora quindi Abbiamo detto Se io vado tipo Cosa ne so Qua vicino a questo albero Faccio soltanto destro L'ho rotta L'ho rotta Ah ok Allora Sto capendo Steff Aiutami a capire Ti prego Se io faccio così Lo devo rompere Quando io ho attivato questa modalità Ah ok 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 Molto utile Dai Quali erano le altre cose Shift destro Fede Eh Mi stai facendo fare una figuraccia Che succede? Non funziona Eh che vuoi da me? Ah Steph Sì che funziona Ho fatto io? No ho fatto io Credo Ok Non lo so Forse no L'hai fatto tu L'hai fatto tu Adesso Era andato in creative Ok Come diceva che si può cambiare le modalità Bla 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 Esatto Eh Ma l'hai fatto tu il buco Steph Quindi come ci sei riuscito? Ma che ne so Allora No sono io Cioè come indosso sta roba E premo destro Esplode tutto Cioè Ma sei in che versione? Con shift Non lo so Forse un'altra Eh poi Aspetta Quale dobbiamo provare? Reality Aspetta Reality Shift destro Ah vedi che hai ragione Aspetta forse control No mi sta cambiando Alla game Aiuto Vedi? È un po' strano È un po' strano Non ti so dire Andiamo di nuovo alla marble Io l'ho detto che avrei fatto una figuraccia Sì ma non voglio stare in creative Ok Sono tornato normale Che casino Dove è? Te l'ho detto Dove siamo? Ho perso marble Sì l'abbiamo perso Forse era qui sopra Ok Ok Che poi raga in realtà È qui sopra Vieni 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 Fede avrà altri poteri E ci dovremo affrontare Ma per ora non mi sta attaccando Perché io sono penoso Io te l'ho detto Steph Che sapevo che era molto complicato Allora Dopo quella La prossima pietra è la Mind Stone Il potere di questa pietra è ancora sconsciuto al momento Quindi la salteremo Beh guarda con gli altri è andata benissimo No infatti abbiamo capito tutto Dopo quella c'è la Space Stone Passate a questa pietra A metà Uno vi trasporterà a breve distanza È simile al potere degli Enderman A metà Due aprirà una cesta portatile Che apparirà dal nulla Ok E non usate Mojta 3 Perché avreste trasportato in un'altra dimensione E potreste morire Ok Ok Ma io mi confondo su Mojta E rischio di morire a priori Comunque La prossima è la Time Stone Le leggiamo entrambe E poi le proviamo Quindi Space e Time Questo è molto interessante Innanzitutto potete utilizzare Mojta 1 Per cambiare l'età di un mob Da adulto a bambino O da bambino ad adulto La Mojta 2 non farà nulla Quindi evitate di usarla Infine Mojta 3 Vi consentirei di aumentare la velocità Tutto intorno a voi Da rompere i blocchi alla corsa Per poter scappare dai vostri nemici Oh bello Allora Steph Spostati Io ti elenco le cose Perché se no qua ce le dimentichiamo Ok Space Stone Spostati Vai via Vai via Allora Space Stone Quindi passa quella Ok Uno Quindi tasto destro Ok Dovresti fare un breve teletrasporto Ok Funziona raga Ok Perfetto Ok Poi la seconda modalità Quindi tenendo premuto il tasto destro Ti fa apparire una cesta portata Attila quanto pare No Hai tenuto premuto shift? No E allora c'è qualcosa di Esatto Mi sa che sono Confuse e rinvertite Eh sì Ecco perché non riuscivamo a utilizzarla Va sempre peggio qua No Steph Ti prego cerca di tornare Ferre Cerca di tornare da me Ho paura Ok Va tutto bene Steph Va tutto bene Ma qua il guanto dell'infinito è andato nell'infinito Sì evidentemente Che faccio? Cioè Cerca di tornare da me Steph Non riesco a tornare da te Ferre Ho bisogno di una mano Perché Questo non era previsto Questo non era per niente previsto Steph Ai 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 Quindi se faccio shift tasto destro Mi compare un ender chest dal nulla Ma tu la vedi pure? Perché me la apre direttamente Fai vedere? Dai tranquilla Io me la soggestire No No però ce l'ho Bello 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 Potrei esempio mettere questo e questo Ok quindi ci dobbiamo ricordare Potrei spostarmi di qui Fare così Bellissimo Facilissimo Questa è una figata Cioè i comandi Ferre no ci siamo 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 Allora reality Steph Bell reality Reality gem Ok Ok Allora uno Per rompere un blocco Ma no Ferre stai leggendo quella sbagliata Time stone Steph Esatto Steph sono tante Non mi rompere Ok Allora Nella chest Sì Ci sono delle uova di mucca Ok Quindi spawna un po' di mucca Ok E praticamente con il tasto destro Tu dovresti cambiare l'età Dovrebbe diventare Ecco una baby mucca E poi torna pure adulta Bellissimo Questa è una figata Allora la 2 non fa nulla Ok Quindi la 3 Tenendo premuto il tasto destro Ti fa diventare tutto più veloce Prova Da rompere i blocchi alla corsa Ok Funziona 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 Fai perché è scomparso la mucca Ferre Questa volta era Allora sono tutte invertite Tutta una cosa strana Shift tasto destro Bisogna andare a tentativi E sperare che sia colpito Ok Allora questa è la prima cosa Che vero utile Per fare un combattimento Francamente Sì Quindi Ok Ma Picchio anche velocissimo Sì è molto cattivo Ok Ok Ti leggo l'ultima Dai così non c'è bisogno che torni qua No aspetta Non riesce a fermarsi Da Ormai è andato Vabbè Ok No questa è la tua esplosione Con la fireball Ok No arrivano gli dei step No arriva nessun deo Poi Infine La modalità 3 Vi darà la forza Di uccidere i vostri nemici Con facilità Buona fortuna Usate questo guanto Dell'infinito Solo per il bene Credici marble Credici Allora Finalmente siamo liberati di lui Stax Aggiorna amico Come sta andando Beh io correrò Velocissimo E ti sparo palle Tu diventa qualche super eroe Ti spacco la faccia E la finiamo qua Fere Cioè Boh Io devo essere Tano Se devo essere anche scarso Raga Ma ditemi voi Se lo trovate giusto Steph il magnifico Thanos Guanto dell'infinito Incredibile 5 gemme del potere E sta usando la power gem E fa pure schifo Allora io non so bene Anche i miei poteri Steph Beh vabbè Ma qua Fere è la fiera Degli sfigati Allora Eh sì Ma bastava dirmelo Sai com'è Fere non ti ricordi? Era tipo RFG Allora no Ci sono scritti qua Tipo N NM J K H Ok Hai un testo per sparare laser Una roba Esatto Quello Poi hai un testo per volare M No Uh questo Assolutamente E rimasto Adesso mi hai fatto arrabbiare Ok Vuoi questo Steph Fere non hai preso il guanto Io divento Divento Iron Man con guanto Nell'infinito Chi me lo vieta Steph Sì è vero ma Cioè sono immortale Dove sei È inutile essere Iron Man Vedi Questa è stila mente Aspetta No 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 Perché io non ho la power jam È quello È quello È attivata Sì Se quale ti massacro Dove sei brutto È tifoso Non può raga È troppo Non è sufficientemente Thanos Per me Sai quanti game ho vinto da Thanos Cara Oh 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 Volando e facendo così Per un rio Ma perché non prendo neanche danni Cioè mi stavi sparando no Sì da due ore Forse è perché mi missi Non mi colpisci la sufficienza No ti colpisco E ti vedo rosso Quindi ti sto colpendo È che sei un maledetto Non fai danno Sai cosa bisogna fare Cioè perché io ho il vero potere di Thanos E tu no Forse l'armatura di Iron Man Ti dà un debuff addirittura Adesso sai che faccio Chiamo l'Epic Games Mi lamento così mi nerfano Thanos Giusto no L'hanno ne fatto quattro volte Non riesco a sconfiggerlo E allora lo nerfano tre volte Capito Perché la gente si lamenta Va bene Va bene Non l'hai finita la mia parte Non puoi vincere Togli l'armatura di Iron Man Secondo me così tu non muori Mentre continuo a ammazzarti Perché è divertente Aspetta Aspetta L'ho tolta Vai Secondo me se io ti sparo Tu non subisci più danno Però sono un po' incastratto Dove Va bene Cioè io sono dio Si è buggato E ti è diventato pure immortale Forse hai chiamato gli dei E tu sei diventato un dio Anziché fare i fulmini Ti hanno fatto diventare un dio Che ne so Sono Steffi il magnifico Thanos Sì non prendo danno a fare Mi dispiace Mi stai Guarda che ti do la palla di fuoco forte Ma perché il tuo è più forte e il mio no Perché Perché sono il vero Thanos Perché Steff Grazie Marble Non mi dimenticherò mai del potere che mi hai dato Grazie mille Io me ne vado via Prima che Fere si arrabbia ancora di più Steffi è diventato Thanos Ormai distruggerà tutto il mondo Con le sue palle di fuoco Guardate qua che casino che posso fare Faccio tutto In ogni caso Ci fermiamo così Ho diventato Ant-Man Steff Così non mi potrei più vedere Non mi interessa il tuo in ogni caso Viene a questo Ma è stato finendo il video No non è finito Ma Perché tu non muori Ma Fere Non mi troverai mai Ma Fere Ma che niente Non mi troverai mai Perché tu virusco L'hai capito È una cosa di un Thanos Schifo Basta basta È morta Basta È morta Ha pure spaccatata la tastiera Quindi dicevo Qua sotto troverete altri video Fere è molto felice Andate sotto a guardarvi qualcos'altro Dove Fere sorride Ah no Anche nei Lucky Block Race Era impazzita Non sorrido mai Non so dove troverete qualcosa Dove Fere sorride In ogni caso Ci fermiamo così Per questo video Grazie